esistono cure molto efficaci abbiamo adesso anche un abbondanza di farmaci e quindi anche qua direi un imbarazzo della scelta non tutti i pazienti rispondono alle stesse medicine e quindi possiamo utilizzare il farmaco più appropriato a seconda del paziente e a eventuali comorbidità perché non sempre il paziente ha solo una malattia quindi avere un armamentario terapeutico ricco è una grande risorsa nel nostro appunto obiettivo di restituire una vita normale a tutti i nostri pazienti